Aldo, tu sei il mio migliore amico e io mi confesso con te, mi confido. E forse stai facendo una peccata Aldo, devi sapere che mia suocera, mamma mia e mia moglie, stanno là per morire. Mi dispiace. No, che dispiace Aldo, quello che è una peccata mia. Sto pregando a tutti i santi che la vecchia maledetta è il tuo sangue. Non mi ha la fine prima. La mia speranza, se ne vuole, è che bagga la casa e non la trovi più. Aspetta. Pronto? Oscar. Mugierma, Mugierma. Oscar corri a casa. Ma che è successo? Perché tiagni? Che è stato? È morto mamma. Tu? Come? Io non capisco niente più, io mi sento sciampazzì, ma in queste circostanze cosa fa? Eh, ma fa una cosa però. Tu abbia a ciangere. Io non ho bisogno di buttare il sanguigno.